Un saluto agli amici di Midiko Snake. Allora ragazzi, in questo video voglio parlarvi di quei dispositivi che utilizzo durante le mie trasferte lavorative o magari ogni santo giorno con il lavoro che faccio. Quindi direi di non perdere altro tempo e di partire subito dopo la sigla. Ok, dato che alcuni di voi mi hanno chiesto questa cosa, io direi di iniziare subito. Come uno dei miei primi dispositivi principali è lui. Sì, ok, non ne vogliate, negli ultimi video ne sto parlando veramente molto, ma è lui, ovvero il OnePlus 6. Il dispositivo che ogni giorno mi fa inviare e ricevere tante di quelle mail lavorative, lo utilizzo costantemente come navigatore per raggiungere tutte le varie località che mi vengono assegnate, lo utilizzo anche per la lettura dei file come Word, PDF, Excel e tanti altri tipi di file. E lo utilizzo soprattutto anche come scanner attraverso la fotocamera principale per poter eseguire la scansione dei documenti per poi inviarli tramite email. Quindi, insomma, un dispositivo che riesce a sopportare tutto il mio uso stressato. Un altro dispositivo che utilizzo costantemente ogni giorno sono l'oro, eccole qua, ovvero le OnePlus Ballets. Anche di loro troverete i video sia nella descrizione che sia qua in alto a destra nelle schede. Le OnePlus Ballets le utilizzo costantemente ogni giorno, sia per inviare e ricevere telefonate, ma soprattutto le utilizzo per ascoltare della buona musica perché, beh, quasi ogni giorno devo raggiungere delle località che sono all'incirca da un'ora a un'ora e mezza di viaggio. Quindi devo dire che loro sono delle ottime compagnie di viaggio sia per le chiamate e sia per ascoltare della buona musica. Un altro dispositivo che utilizzo costantemente ogni giorno e lui già lo conoscete, lo conoscete molto bene, ovvero il mio computer Lenovo ThinkPad X230, un computer che porta come caratteristiche principali un processore i5-2a core accompagnato da ben 8 GB di RAM e 160 GB di memoria interna SSD. Sì, è vero, non è tanta la capienza dell'hard disk, però a me basta giusto per lavorare e giusto per montare i miei video perché sappiatelo, con quel PC monto tutti i video che sono presenti qui sul canale YouTube. Un altro dispositivo che utilizzo costantemente ogni giorno è lui, ovvero un mouse di Logitech modello M235. Su di lui non c'è molto da dire, anche perché, beh, sui mouse non è che ci sia molto da dire. Ed è un mouse che lo preferisco in alternativa al touchpad integrato del mio computer perché sia per le varie operazioni ogni giorno, là dove devo aggiornare dispositivi ogni quavolta che monto video, beh, devo dire che è veramente molto comodo e soprattutto abbastanza fluido e preciso nei movimenti. Quindi devo dire che, beh, come ho detto già prima, lo preferisco in alternativa al touchpad integrato. Parliamo dell'ultimo dispositivo, ovvero le mia Q7. Sono delle cuffie Bluetooth che utilizzo in accoppiato con il mio computer ogni quavolta che devo guardare un film su Netflix, su un video su YouTube, ma soprattutto le utilizzo ogni quavolta che devo eseguire il montaggio dei video che vedete qui sul mio canale YouTube. Sono delle cuffie che le possergo o mai da anni, non mi hanno creato mai nessun tipo di fastidio e riescono anche ad isolarmi dal mondo esterno. E le utilizzo soprattutto magari quando mi trovo in camera con un collega, non voglio dati fastidio, metto le cuffie, faccio l'editing o magari qualche altra operazione là dove ci sta da silenziare l'audio per non dare fastidio all'ambiente circostante. Ovvio che di questi 5 dispositivi voi qua in basso trovate i link alle mie video recensioni perché vi ho portato anche video su questi 5 dispositivi, ma soprattutto trovate anche il link d'acquisto qua in basso nella descrizione. Adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti, se anche voi utilizzate dispositivi durante il lavoro, quali sono, ma insomma fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. E se questo video vi è piaciuto vi raccomando lasciate tanti bei pollicioni in su e animazione, già la conoscete la solita animazione, che vi ricorda di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano molto i canali. Si lo so, lo dico sempre, ma è così. Voglio ricordarvi anche che sono presente su Instagram, chioccio la minicosnake, link in basso nella descrizione e ve lo ricordo anche l'animazione qua in basso. Laddove potete contattarmi, chiedermi qualsiasi cosa, insomma farci una buona chiacchierata e sono sempre qui a vostra disposizione. E concludo qui il video e già lo sapete, noi ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale YouTube. Ciao! Ciao!